ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su dragon ball z kakarot siamo qui stavo tornando per dire che siamo nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta ma l'altra volta eravamo alla capsule corporation dopo aver completato le missioni di bulma e quindi ormai stavo tornando a casa per andare avanti nella quest principale parlare con kiki quando ho intravisto questi due loschi figuri ragazzi due loschi figuri che sono niente popo di meno che condor e taipai o meglio l'eremita della gru e taipai l'assassino killer la vogliono forza uscite voi gohan stai indietro gohan ci pensa la mamma a questi manigoldi sciocca ti stiamo offrendo la nostra protezione esattamente migliore assassino del mondo tao bai bai nome originale maestro shen fondatore della scuola della gru io tao bai bai il migliore assassino del mondo ti proteggerò e per la modica cifra di 100 mila zeni un piccolo prezzo per la tranquillità no non se ne parla volete solo prendervi i nostri soldi scusate ma non ho intenzione di darli a due criminali come voi capisco sai poco fa ho incontrato dei mostri da queste parti e allora erano piuttosto minacciosi sarebbe un peccato se attaccassero degli innocenti come voi ehehehehehe non cadremo nei vostri trucchetti che palloni gonfiati forza gohan mamma dice che vogliono ingannarci ma c'è davvero qualcosa di malvagio nei paraggi che c'è ragazzino hai paura? non ho affatto paura tau bai bai e le remita della gru vogliono offrirti la loro protezione dimostragli che non ne hai bisogno un volto familiare ci penso io a quei mostri tu? tu sei solo un bambino ehehehehehe molto bene mostrami cosa sai fare però sappi che stai giocando con il fuoco non mi lascerò battere va bene trova i mostri nell'area usando gohan ok sono neanche tanto lontani dovrebbero essere qui i saibamen guardami che mi facciano dei saibamen ehi ma quelli sono quelle cose che ho trovato esaminando la navicella dei saian bene è ora di eliminarli gaga gaga un po' di allenamento non ci farà male vai gohan super masenco ok ok beccato? si stavolta si bam ah quindi vi ha mandato gli tau bye bye e le renita della ah quindi sono stati trovati da loro? ops mi sa che è un pochino esagerato direi che è tutto risolto adesso torniamo a casa ha vinto davvero nemmeno io potrei battere quei cosi cos'hai da urlare? cos'hai da urlare? pensando che menta quando dico che ho sconfitto i mostri assurdo semplicemente assurdo nemmeno io potrei battere quei cosi ah ben vista lo sapevo volevate solo prendere i nostri soldi e scappare è tutto un blef ah lo ammette pure allora che è tutto un blef o sta dicendo che noi stiamo blefando un ragazzino non può farcela contro quei mostri perchè forse non sapete di che figlio si ma questo bambino mi sembra di averlo già visto aspetta piccolo con una forza incredibile oh ragazzino come si chiama tuo padre? mio padre si chiama Goku Goku? questo vuol dire che tu esatto io sono sua moglie cosa? non scherziamo non voglio avere niente a che fare con questa famiglia di mostri storia completata hehehehe eremita della gru e Shen come emblemi allora loro vanno bene per l'allenamento il maestro Shen per la rivista anche degli adulti Mentre Tau Bai Bai va bene per quasi tutto Puccina, Forza e anche Guerrieri Z Ok Mi sono appena ricordato che ho da fare Beh, è ora di andare Ehi, dove credi di andare? Non osare lasciarmi qui Non amo l'ossessione di Goku per la lotta Ma a volte ha i suoi vantaggi Credo che valga la pena che tu impari a combattere Ma lo studio viene comunque prima di tutto Già Mi hai sentito? La prima cosa a cui devi pensare è studiare Vabbè, poi gli dice del fatto di allenarsi e quant'altro Ok Cioè lo ha demoralizzato Però ho schiacciato in... E non azzardarti a combattere di nuovo alle mie spalle Vuoi che alla tua povera mamma venga un attacco di cuore? No Certo che no Aumento di livello E adesso vediamo se abbiamo ancora qualcosa Non mi pare che abbiamo missioni secondarie nei paraggi No, infatti no Ok Entriamo in casa Molto bene ragazzi Direi che per oggi possa essere tutto La prossima volta ripartiremo da qui Io come sempre vi invito a lasciare un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E... Alla prossima Ciao belli